ok andiamo voltare a destra prepararsi a voltare a sinistra voltare a sinistra attraverso Prepararsi a voltare a destra Voltare a destra Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra Voltare a sinistra Voltare a destra Andare dritto Alla rotatoria prendere la seconda uscita Tenersi a sinistra Uscire adesso Uscire adesso Uscire adesso Uscire adesso Uscire adesso Tenerse a sinistra Tenerse a sinistra Tenerse a sinistra Tenersi a destra E poi uscire a destra Uscire a sinistra Prepararsi a voltare a sinistra Voltare a sinistra Voltare a sinistra Voltare a sinistra Grazie a tutti. Grazie a sinistra e poi voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Voltare a destra e poi voltare a sinistra. 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 Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Voltare a sinistra.